Si continua a monitorare con attenzione in città la vicenda della Tecnocall, il call center che ha sede a Monticchio ma che ha occupati in tutta Italia. In cento rischia nel posto, all'Aquila, se non sarà applicata la clausola sociale, mille lavoratori in Italia. Il consigliere Polo Romano ha richiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario per la salvaguardia dei livelli occupazionali, richiedendo la presenza dei membri abruzzesi del governo, dei parlamentari abruzzesi e dei sindacati. A tal proposito già si era votato dal consiglio comunale un ordine del giorno all'unanimità e in questo tempo si sarebbe dovuta mantenere alta l'attenzione sulla salvaguardia dei livelli occupazionali nelle more della successione del contratto di appalto coincidenti al passaggio dal regime all'alto di mercato e proprio a questo fine blindare la clausola sociale. La situazione ad oggi purtroppo è rimasta immariata, stiamo aspettando comunque che ci diano conferma che la clausola sociale venga inserita nel decreto, quindi che nessuno a livello politico voglia brogare il 36 ter dove giustamente è prevista la clausola sociale. La CGL tramite Marina Scimia spiega così che loro andranno avanti, si tratta di 100 famiglie ma chiedono un sostegno anche alla politica locale e nazionale. Sicuramente noi ci faremo sentire a tutti i livelli, anche a livello nazionale perché poi sull'Aquila 100 famiglie resterebbero comunque senza uno stipendio, è un problema serio per noi, quindi noi ci auguriamo di no. Un primo passo dal Partito Democratico è stato fatto perché hanno tolto l'emendamento che avevano fatto. Mi auguro che nessuno faccia emendamenti per abrogare il 36 terra.